Ciao, mi chiamo Bendy Goketo, e oggi ho una grande notizia. Voglio parlarti dell'applicazione Goketo, perché sappiamo che sempre, quando misuri i tuoi chetoni, devi prendere carta e penna per scrivere i tuoi risultati. Ma l'app Goketo fa tutto per te. È facile da usare e tutto ciò che devi fare è inserire i tuoi valori ogni volta che effettui una misurazione. Non c'è bisogno di preoccuparsi se lo hai dimenticato una volta. Puoi sempre farlo un po' più tardi e regolare la data e l'ora. Cosa ti offre l'app? In realtà ti offre una panoramica dei tuoi progressi e puoi vederli in un grafico di facile lettura. Quindi, come hai fatto oggi, ieri, la settimana precedente, eccetera. In questo modo puoi vedere come stai andando nel tempo. E abbiamo aggiunto un'altra funzione. Si chiama l'indice chetoni e glucosio, perché è utile. Leggi tutto sul nostro sito web, ma in poche parole. Misurando contemporaneamente il glucosio e i chetoni, saprai meglio a che punto sei del tuo percorso. Perché i chetoni, da soli, sono solo una parte della storia. E se il glucosio è troppo alto, potresti ancora non vedere i risultati che desideri. Quindi misurare contemporaneamente il glucosio e i chetoni e poi inserire i valori nell'applicazione. Ti fornirà il tuo indice glucosio-chetoni. Puoi rivedere facilmente i tuoi risultati precedenti e i tuoi progressi nel tempo. Così saprai esattamente a che punto sei del tuo percorso Keto. Quindi, l'applicazione è a tua disposizione. Puoi scaricare l'applicazione su dispositivi Android e Apple. Puoi anche acquistare i tuoi prodotti Keto preferiti direttamente dal nostro sito. È un ottimo strumento. Dacci il tuo feedback e dici come te la cavi con Be the best me. Ciao! Ciao!